La Flessia, nata a Monte Roberto, nel cuore delle Marche, sfrutta una zona industriale ben servita da infrastrutture e collegamenti. L'elevata tecnologia si sposa con la passione per il legno, un percorso che pone due obiettivi principali, soddisfare le esigenze specifiche del cliente in tempi brevi e pianificare la produzione secondo l'esigenza di gestire il flusso di lavoro in piccoli lotti. Flessia garantisce tempi di consigna brevi, oltre a una produzione su misura e a misura del cliente, con una particolare attenzione alle finiture e alla qualità dei materiali. Le linee di prodotto sono Vite in CPL